Vado in Wüttemberg, Bruxelles, Germania, pochi giorni a Natale, siamo in Germania, gli stipendi in Germania sono molto più alti, sono più alti, quasi il doppio che l'Italia, però costa tutto molto di più per l'italiano, il piteco, quello che è sempre seduto sul suo bel sediolone, sul suo bel culone, col suo pc che gira il mondo con Facebook, con Google Maps, quelli che fanno gli studi, sono i belli seduti, qui costa tutto molto di più in Germania, stai scherzando, a parte comprare un po' di cosini per i nipoti, fa molto tutto di più. Listerine è 1,95 euro, sì ma senza stare lì nei quadri, gli dico i prezzi, non vogliamo perdere, Listerine è 1,95 euro, una cassiera guadagna 1.800 euro al mese, un operaio 2007-2008, quest'anno prendono un premio di produzione a Volkswagen di 4.500 euro, di 14esima, più la 13esima detassata, stipendi medi di un operaio in fabbrica, proprio uno del cazzo che tira su, 2005-2007, possiamo perdere autostate gratis, sanità, tutto, però in Germania la vita costa molto di più, ok, va bene, ok, sensodine 2, te lo dico così senza che anche il quadri, se ci credono, ci credono, sennò va affatto, sensodine 2 euro. Diego, 0,39 dei dentifrici, quelli, questi qui, sensodine lì, quello sensitive dento, vediamole, vediamo, senza che stai lì a fare il quadratore, intanto io dico io tutto, vabbè, qui vabbè, deodoranti, quello che costa di più 1,50 euro, andiamo di là, andiamo un settore di qui, andiamo di qui, docce, schieme, niva, niva, dov, robo, quello che costa di più 1,45 euro. Garnier Body, in Italia so che costa 5 euro qualcosa, qui costa 2,95 euro, 2,95, perché la vita costa molto di più in Germania, ricordate, guadagnano molto di più, ma per il culone è flacido, vabbè, vabbè, la vita costa molto. E' questo scritto di prodotti delle donne, qua ci sono qua, quasi, produzione delle donne, qui 2,75, Garnier, per i coloranti 2,75, poi c'è, ah, fructis, fructix, fruct, fruct, cazzo in culo, 1 euro qualcosa, qua, avanti, poi andiamo per papi, vediamo che andiamo per papi, dei bikini per i nipoti, qui, 0,70, 0,55, lì, quanto è, 0,55, 0,55 e prodotti questi, questi, pannolini dove sono, andiamo dai pannolini a far vedere, papi spero viene, papi che va fino a soldi per risparmiare i pannolini, pannolini migliori, un pacco di pannolini da 42, 4,95 euro, 4,95, prossima volta te li porto papi, ah, perché qua sono poveri, no, ma qua sono poveri, andiamo, andiamo un attimo nella povertà, ah, la bambola per la nipote, 3,90 euro, qua andiamo nel settore, qua andiamo nel settore, andiamo di qua, andiamo nel settore per Beppe, Beppe Pastorelli, che lui è uno, è un atleta o ricostituente, anche per mia madre, che adesso gli prendo qualcosa per via, bevande queste dietetiche lì, vitamina Cirobo, eh, 0,90 euro, 0,90 euro, l'Italia è l'Italia, vedete che qua c'è la sciura, confezione di 60 capsule, maniso 400, 2,75 euro, le stesse in Italia le prende mia madre, 15,90 euro, 2,75 euro, perché qua, qua sono poveri, capito, Beppe la benzina, qua la pagano 30 centesimi, vero, sempre perché in Italia sono riti, sono riti, commessa guadagnerà 8,900 euro al mese, qua sono riti. Ah, beh, qui la situazione di te, di un chilo di proteine al 90%, robo che, robo, 14,90 euro, 14,90 euro, non so, no, quant'è che costano queste qua, mi sembra, mi sembra, 30,50, ah sì, le barrette multivitaminiche di proteine, che no, 0,49, 0,45, queste le vedo in palestra, costano un paio di euro, quelle più professionali, queste, 0,79, quelle che costano di più, 0,79, 35% di proteine, ah, creatina 3.9, 9 euro, 9 euro, confezione di uomo maltina, eh, per un uomo 3 euro, confezione Isostrap, Isostrap Energy Sport Power, 0,90, ok, 0,90, vediamo se troviamo qualcosa d'altro, vada, poi vada ci sono i cioccolati che vedevo che comunque costavano meno della metà che in Italia, queste sono le vitamine C, 99, multivitamini 1,95, questi, questi, questo è il top, vai giù un attimo, questi sono sicuri, no no vai giù un attimo, questi sono sicuri, non al 100% perché li prendo anch'io per mia madre, mia zia, la vitamina C così le prendo anch'io, cioè le prendo anch'io, qui le prendo, perché non le prendo in Italia, questo sono sicuri al 100%, non in farmacia ma all'Ocean, quei centri commerciali così, costano tutte queste, c'è vitamina calcio, vitamina C, ferro più magnesio, costano tutti dai 4 ai 5 euro, tutti costano, tutti costano tutti i 4 ai 5 euro, quella che trovi meno 3 euro, anche il bene trovo, guarda i prezzi qua di quanto costano, 0,45, vieni qua, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,79, 0,79, vitamina più calcio un saluto a tutti, viva l'Italia, l'importante è sempre stare lì belli seduti, sempre lì sul divanone, col suo bel culo placido, a spantegare, a credere, a pontificare, continuate così, continuate così, siete i numeri uno, cioè siete i più grandi d'Europa, perché in Germania, beh, in Germania guadagnano bene l'operaio, nel 2003, nel 2003, nel 2003, si pensano molto più alti, ma il costo della vita, il costo della vita è molto molto più alto il costo della vita, il costo della vita è un terzo che in Italia, il costo della vita è molto molto più alto, il costo della vita è molto più alto, io lui, ieri sera, pizzeria, prezzo? 15,50 euro, ok, 15,50 euro, vengilo? Ok, scusa, è più alto, più alto pizzeria qua, qua, ti dico anche il posto, Kaiser Jobstrap Svflower, ok, allora 15,50 euro, allora una birra media del papa, una fanta media del segretario di stato, due pizza salame, una pizza salame, più peperoni e un dolce, 15,50 euro, scusa, 15,50 euro, ok, ok, va bene? Ok, auf Fiedersen, auf Fiedersen Piteco, continuate la Germania, la Germania, Fiedersen, auf Fiedersen.